E torniamo in diretta. Con gioia abbiamo partecipato a questo concerto nei giorni scorsi in chiusura dell'anno santo e con gioia accogliamo anche i nostri ospiti di quest'oggi. Lo abbiamo già anticipato all'inizio della nostra diretta. Nicola è un'associazione di volontariato, Radio Club Marconi di Foggia, e qui abbiamo alcuni dei rappresentanti, in particolare il presidente Miria Spadaccino e il vicepresidente Pasquale D'Antuono. Vogliamo un po' festeggiare un compleanno. Trent'anni di questa associazione. Tanti sono i volontari, tanti sono purtroppo gli eventi che poi richiedono il vostro aiuto. Buongiorno, benvenuta Miria. Raccontateci un po' dell'associazione e in modo particolare di questo compleanno che ancora si festeggia. Allora, innanzitutto l'associazione Radio Club Marconi Foggia nasce nel 1986, quindi ad oggi ha festeggiato il suo trentennale. Solitamente l'associazione si occupa di calamità naturali, quali rischio idrogeologico, rischio sismico e rischio ambientale. Essa ha sempre costituito un valido supporto per tutte le varie istituzioni, sia a livello provinciale che regionale, comunale e nazionale. Purtroppo gli eventi che hanno colpito il nostro territorio sono stati tantissimi, dai crolli alle alluvioni. Per quanto riguarda soprattutto il comune di Foggia, il rischio dei crolli è stato tantissimo. Infatti, diciamo, suo malgrado, li ricordiamo, abbiamo il crollo di Viale Giotto, il crollo di Viale delle Frasche, che purtroppo l'associazione ha dovuto vivere, stanto accanto della popolazione e delle istituzioni, in maniera ineccepibile. Diciamo che però non vi fermate soltanto sul posto, siete di Foggia, l'associazione di Foggia, ma vi spostate anche altrove. Ricordiamo tutti con tristezza anche gli ultimi terremoti in centro Italia. Lì si va, diciamo, si ha la volontà di andarci subito in soccorso, però ben organizzata la protezione civile, comunque si suddivide in gruppi, anche perché c'è bisogno costante di aiuto. A questo proposito, Pasquale, che sei il vicepresidente, cosa avete in programma anche per i prossimi giorni? Per i prossimi giorni ci stiamo attrezzando. Comunque siamo già in lista per andare sui luoghi del terremoto e aspettiamo soltanto che ci chiamano direttamente dalla Regione Puglia, dalla protezione civile, per partire. Siamo pronti e quindi siamo disponibili, al momento opportuno saremo lì presente e daremo il nostro contributo, il nostro aiuto come è previsto, come facciamo sempre. Sicuramente sono state tante le situazioni anche emotivamente coinvolgenti per la vostra realtà. Ce n'è uno in particolare, o qualche episodio in particolare, che vi è rimasto nel cuore in questo trentennale di attività? Sicuramente qualcosa che ci ha minato fisicamente e mentalmente è stato il crollo di Vialegiotto in Foggia dove circa oltre 60 persone hanno perso la vita per un problema strutturale, credo, del palazzo. Lì, sinceramente, anche se io non ero presente, però ci sono stati molti colleghi della Marconi che si sono sacrificati per cercare di liberare nel più breve tempo possibile queste persone da questo dramma. Abbiamo in rappresentanza il Presidente e il Vicepresidente, ma voglio chiedere a te, Miria, qual è la soddisfazione più grande? Immaginiamo, insomma, siano i tanti iscritti volontari che poi partecipano. Tanti sono i giovani, noi vediamo anche qualcuno qui che vi ha accompagnati. In effetti il termine protezione civile non significa, secondo me, soltanto emergenza, ma è anche coinvivenza e condivisione ed è proprio nello spirito di questa convivenza e condivisione che cerco sempre di lanciare, anzi la Marconi in questo caso, cerca di lanciare un messaggio soprattutto ai più giovani. Quindi cercate di vivere appunto questa passione affinché essa non solo possa gratificarvi nell'anima, ma li faccia crescere con valori sani e li aiuti comunque a vivere meglio la vita, ad aumentare il loro curriculum, la loro esperienza di vita. Ci sarebbe tanto ancora da dire, noi purtroppo siamo costretti a fermarci per qualche istante, però ritorniamo qui in diretta. Torniamo subito dopo qualche istante di pubblicità. Restate con noi? Tante situazioni di difficoltà, ma sicuramente un grande cuore messo a disposizione delle persone che soffrono a causa appunto di calamità naturali e non solo. Questa è la protezione civile, questo è il gruppo che abbiamo presentato quest'oggi e che continua a farci compagnia ancora per qualche minuto, perché vogliamo approfondire una delle particolarità di questa realtà. Ecco, una realtà che attrae molto anche dal punto di vista delle forze che vengono messe a disposizione per entrare a far parte della protezione civile. Ma quali sono le caratteristiche richieste per chi volesse entrare in un gruppo come il vostro o più in generale nel volontariato della protezione civile? Che caratteristiche? Quello è giusto per avere tanta ma tanta buona volontà. Avere essere maggiorenni, non c'è un limite di età, comunque è giusto che siano maggiorenni, e avere tanta forza in corpo per poter dare una mano a tutti e poter andare avanti. Certamente non manca la volontà dei giovani, ne abbiamo tra di noi, ce ne sono un bel po', ci sono anche persone anziane o quasi settantenni che sono con noi, ma innanzitutto noi vogliamo formare i giovani più che altro e quindi è quello dove ci stiamo sacrificando sia a livello personale che a livello di associazione. Cerchiamo di invogliare i giovani ad avere un rispetto per le istituzioni e cercare di migliorare sempre aiutando gli altri. Un'occasione dunque per poter dare una mano al prossimo, un'occasione di solidarietà ma anche e soprattutto un'occasione di crescita personale. Sicuramente tornate anche voi da situazioni di difficoltà arricchiti in un certo qual senso nel dare il vostro aiuto. Certo, comunque in qualsiasi momento, ogni qual volta si va fuori o per emergenze o per altre cose, si torna sempre con un carico di aiuto, con un carico di aver appreso qualcosa che ti lascia il segno dentro. Insomma, non soltanto i giovani ma anche le persone che stanno per andare in pensione possono impegnarsi nel volontariato. Allora vogliamo intanto dire grazie per averci fatto partecipare a questo compleanno, questi 30 anni dell'associazione Radio Club di Foggia, Marconi di Foggia. Noi qua siamo insomma con uno sfondo prettamente natalizio, insomma tanti auguri per il Natale perché sappiamo che vi dovreste anche spostare nei prossimi giorni, proprio andare in quei posti dove c'è davvero bisogno. Esattamente, quindi io l'unica cosa che posso dire, vi ringrazio tutti, abbiamo preparato un omaggio per Tele Padre Pio, il nostro calentario di quest'anno, dell'anno 2017, e glielo diamo con tanto amore. Grazie, grazie mille. Bello questo, non so se riesce la regia ad inquadrarlo, 30 anni Radio Club Marconi con la gente e per la gente. Insomma, lo slogan ci sta tutto. Che vogliamo trasmettere. Ecco qua, intanto abbiamo visto anche delle foto di questo trentennale. Grazie Miria, grazie Pasquale, buon lavoro a voi e grazie anche a nome di tutti per quello che fate.